ben ritornati sul mio canale tutto dal web aurora ramazzotti e la figlia di eros e michelle unziker ha avuto il primo figlio nato dalla storia d'amore con il compagno goffredo cerza il piccolino si chiama cesare ecco la prima foto postata sui suoi social aurora è diventata mamma la figlia di eros ramazzotti e michelle ha avuto il primo figlio dandone l'annuncio con due dolcissimi scatti pubblicati su instagram a poche ore dalla nascita dopo aver condiviso infatti con i suoi fan l'intera gravidanza tra immagini col pancione e mettendosi anche a volte a nudo e parlando delle difficoltà dalle incontrate aurora ha annunciato con due scatti realizzati dal fidanzato la nascita del loro bambino la prima è una foto a tre la seconda invece un fermo immagine avvalorato dalla discalia bff migliori amici dei pugni di goffredo e del piccolo cesare non sappiamo molto di più ma il bambino sta bene ed è già nelle braccia della mamma quindi tanti auguri sia michelle a eros per essere diventati nonni e doppi auguri ovviamente ad aurore al suo compagno per la nascita del piccolo cesare a